La prossima interrogazione, Forza Italia, illustra l'onorevole Battilocchio. ...iniziative di competenza per sostenere il sistema produttivo e imprenditoriale dei territori di Civitavecchia e Brindisi, in relazione alla prossima dismissione delle centrali per la produzione di energia elettrica e vi ubicate. Il deputato Battilocchio ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego. Grazie Presidente, Civitavecchia e Brindisi, due territori bellissimi, ricchi di storia, cultura, tradizioni, beni archeologici, riconosciuti anche in sede UNESCO e con due sistemi portuali che in particolare negli ultimi anni hanno consolidato il loro ruolo strategico. Ma Civitavecchia e Brindisi da decenni ospitano anche due grandi centrali per la produzione di energia elettrica che hanno contribuito in maniera nevralgica determinante all'approvvigionamento energetico nazionale. Oggi stiamo virando e noi condividiamo in direzione diversa con dismissione dei due impianti senza riconversione. Ma, Signor Ministro, quali percorsi specifici di sostegno ai sistemi produttivi locali ha in programma il Governo per riconoscere l'attenzione dovuta a queste aree che hanno dato davvero tanto in questi anni nell'interesse generale del Paese. La ringrazio, onorevole Battilocchio. Le risponde il Ministro dello Sviluppo Economico, l'onorevole Giancarlo Giorgetti. Grazie, onorevole Presidente. Onorevole Battilocchio. Lei ha ricordato la vicenda delle centrali elettriche siti nei territori di Civitavecchia e Brindisi destinati alla chiusura entro il 2025 in coerenza col Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima 2030. A riguardo, fermo restando che ogni scelta in ordine alle tempistiche di dismissione delle attore tecnologie e al possibile passaggio verso la produzione in loco di energie rinnovabili andrà valutata dal Governo, dal competente Ministero, del MIT, nel quadro dell'evoluzione della situazione di crisi energetica in atto. Per quanto di competenza del Mises posso confermare la piena attenzione ai temi della tutela occupazionale, della riconversione industriale e della trazione degli investimenti. Senza leccare gli strumenti che sono stati in questi ultimi mesi previsti per i settori in crisi, in questa ottica voglio affrontare il tema della futura riconversione dei siti e in particolare quello dello sviluppo delle tecnologie innovative e sostenibili da selezionare in un idoneo quadro progettuale di ampio raggio. Tra gli strumenti che ritengo maggiormente funzionari nello scopo metto in primi posti l'IPCEI, gli importanti progetti di comune interesse europeo che consentono di agevolare i soggetti interessati allo sviluppo di progetti di rilevanza tecnologica ed innovazione a livello europeo. Si tratta di strumenti diretti a fondere conoscenze, competenze e risorse e addettori economici di tutta l'Unione Europea e che possono ben operare in settori in cui si richiedono forti interventi e trasformazioni per ovviare a gravi fallimenti sistemici del mercato. Non di minore importanza sono poi i contratti di sviluppo nei quali credo moltissimo in quanto strumenti agevolativi dedicati al sostegno di programmi di investimento strategici innovativi di rilevanti dimensioni e con il recente decreto del 2 novembre 2021 sono stati rafforzati sia sotto il profilo dei criteri di selezioni sia sotto il profilo della semplificazione dell'interamministrativo. Ovviamente ogni iniziativa andrà valutata in pieno d'accordo con gli operatori interessati, con le amministrazioni competenti e con le realtà locali a fine di advenire alla piena valorizzazione del territorio facendo in modo che la sfida verso la transizione ecologica diventi una spinta verso la riconversione e l'occasione di per nuove sfide che coniugano ecologia, produzione e piena tutela occupazionale rilanciando progettualità innovative e incrementando nuove funzioni produttive. Il Ministero dello Sviluppo Economico è quindi impegnato nel mettere a disposizione gli strumenti più idoni a attrarre investimenti nel monitoraggio delle possibili iniziative degli interessati e ove ne sostituisano le condizioni e pronto a intervenire per favorire il rilancio delle due aree industriali. Piena attenzione del Governo per garantire il livello occupazionale e la ricoversione delle aree anche grazie ai progetti europei e ai contratti di sviluppo. Signor Presidente, grazie per avermi dato la parola, grazie signor Ministro per la risposta che ha evidentemente inglobato anche competenze che non sono le sue ma ha parlato oltre che da Ministro sicuramente da uomo di grande esperienza politica e di questo le siamo grati. Guardi, siamo soddisfatti della risposta e soddisfatti del fatto che anche grazie a questa risposta abbiamo portato in Parlamento il tema di Civitavecchia e di Brindisi perché come ha detto il collega Battilocchio tanto hanno dato Brindisi Civitavecchia ed è giusto che il Paese glielo riconosca. È vero, Enel ha già avviato una fase successiva alla decisione della dismissione ma questo come abbiamo detto non basta. Per questo per esempio abbiamo chiesto una audizione nelle commissioni competenti della Camera di Enel proprio per parlamentarizzare anche queste iniziative industriali della società partecipata dello Stato. Occorre attrarre investitori, gli strumenti sono quelli che ha elencato ma c'è bisogno di una regia, c'è bisogno di una cabina di regia perché permetta di abbinare la conversione ambientale anche a quella industriale. Per la verità noi abbiamo avuto già la visita del suo viceministro a Brindisi dell'onorevole del senatore Pichetto, il ministro Calfagna ha come sa attivato il CIS di Brindisi e Lecce e si sta attivando anche per Civitavecchia. Ma è ora adesso che le iniziative vengono sottoposte ad una regia quindi noi produrremo qualche iniziativa parlamentare ma è ovvio che la nostra iniziativa parlamentare dovrà appoggiare sulla volontà espressa del Governo e soprattutto sulla capacità del Governo in questo caso affidandoci molto all'attività del Ministero del Sviluppo Economico di essere regista di tutte queste iniziative. Grazie.